buonasera ora incidente di percorso nella vita succede cristian ha dovuto tornare velocemente a casa perché al secondo figlio di 15 giorni con 38 di febbre sta male essendo che di brescia lasciare tantissimo facciamo un solo pezzo da 90 sogna ma la spina secondo incontro del ciclo educare al lavoro della cdo milano dal titolo appunto impresa originale al di là che abbiamo rubato un po il mezzo titolo dal titolo del libro di sogna frase che è un po il capostipite punto di partenza credo il suo libro che è questa penso anche con tristezza le donne che sul lavoro vengono scoraggiate dall'avere figli o devono nascondere la pancia com'è possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire non la donna ma la società deve vergognarsi perché è una società che non accoglie la vita smette di vivere papa francesco buonasera a tutti è un onore è un privilegio è un piacere per me essere qua con voi vi dico parlerò della mia storia e del congedo originale il congedo originale è un libro che abbiamo scritto io e la mia collega giovane abbiamo 20 anni di differenza potrebbe essere mia figlia ogni tanto la scambiano anche per mia figlia e lei che mi ha dato coraggio mi ha mi ha detto in pandemia quando vedevamo che tanti lavori che si perdevano in pandemia erano prevalentemente lavori femminili di donne mi ha detto ma perché non scriviamo quello che stiamo facendo dal 2011 e ho detto ma noi non siamo delle scrittrici siamo delle manager e non so neanche se siamo capaci e poi vivendo da manager non c'ho non c'ho neanche il tempo per leggere dobbiamo scrivere un libro semplice pragmatico perché questo noi facciamo noi facciamo e quindi ci siamo messe no sapete in pieno lockdown siamo dati appuntamento ogni mese e l'abbiamo scritto un anno poi un anno per trovare l'editore quindi è un'operazione non di danone noi l'abbiamo scritto poi l'abbiamo presentato c'è solamente una pagina che riguarda danone che riguarda i risultati che noi abbiamo implementato in danone perché stiamo parlando di una politica di genitorialità e quindi è questa la genesi del libro e il peccato il peccato il congedo originale perché il congedo originale abbiamo detto vogliamo esprimere il fatto che stiamo andando contro secoli di storia il fatto che le donne quando si assentono dal lavoro nella maggior parte dei casi è doloroso il distacco si sentono in colpa a rientro si sentono inadeguate e quindi stiamo andando contro contro no contro la storia e poi volevamo esprimere qualcosa di militaresco perché le organizzazioni sono concepite come finora le abbiamo concepite abbastanza militari e quindi i due uomini a cui abbiamo chiesto di leggere il libro perché noi non volevamo fare un libro delle donne contro gli uomini volevamo fare un libro che parlasse a donne e a uomini perché poi vedrete che non si parla solo di maternità ma si parla di paternità non si parla solo di figli si parla di persone disabili fragile di genitori anziani si parla di cura la mia soddisfazione è di aver inserito la cura il concetto di cura nel mondo economico e adesso poi speriamo il tema e non è buonismo dalla mia osservazione è un investimento perché io con la cura ho le migliori performance da parte delle mie persone però non voglio dirvi troppe cose contemporaneamente allora si origina un po dalla mia storia no io ho un'unica figlia che ho avuto tardi a 37 anni perché prima non me lo potevo permettere perché chiaramente scalavo i gradi della gerarchia poi noi volevo un secondo ma la natura mi diceva basta ormai hai 40 anni cosa vuoi il mio rientro dalla maternità in azienda non è stato facile non voglio parlare male dell'azienda dove ero perché perché no perché non si fa e non è così però era un ambiente lasciatemi dire se non a stile indifferente alla maternità non preparata a gestire una direttrice che andava in maternità quindi quando io sono arrivata nel 2011 in mellin che è l'azienda del gruppo danone che si occupa di alimentazione per i bambini mi sono detta qui le mamme saranno sarà il paradiso delle mamme non avranno quel rientro che ho avuto io difficile perché qui ogni giorno parliamo di alimentazione per i bambini pensiamo ai genitori e non è non è stato così perché sono arrivate in un'azienda che aveva il 50 per cento come oggi di popolazione femminile di donne però le ho trovate con uno stato d'animo molto negativo andavo a vedere le indagini di clima sapete le indagini di clima sono anonime quindi lo spaccato uomini e donne il sentimento la percezione delle donne era molto negativa era 15 20 punti sotto quella degli uomini su tutte le dimensioni e quindi ho ho visto una ho indagato no ho detto ma sto malcontento da dove deriva tre sentimenti ho trovato la rassegnazione quindi erano presenti nelle posizioni basse amministrative nella manovalanza e mi dicevano noi non possiamo crescere perché abbiamo compiti anche familiari oppure ci sono ruoli che non possiamo dove non possiamo assolutamente perché non riusciamo a conciliare con i nostri impegni il secondo sentimento era la paura soprattutto delle ragazze giovani che dovevano andare in maternità che dicevano quando torno chissà se avrò ancora il mio posto di lavoro il terzo sentimento era la rabbia delle mamme che magari chiedevano il part time o un aiuto per gestire temporaneamente i figli e questo non veniva dato perché c'erano esigenze di tipo economico organizzativo quindi io sono andata dal mio amministratore delegato ai tempi uomo e in periodo di prova questo ci tengo sempre perché sono stata proprio incosciente e gli dico hai il 50 per cento della popolazione femminile è una zavorra assumiamo uomini perché così la possiamo fare non sono motivate lavorano in maniera lamentandosi in continuazione qui hai una mancanza di produttività in un'economia digitale dove si lavora per obiettivi se non sei motivato ingaggiato i perdi tantissimo quindi ho detto deve essere una scelta imprenditoriale puntiamo sulle donne bene allora dobbiamo fare qualcosa non puntiamo sulle donne scelta imprenditoriale ma io smetto di assumere donne perché comunque ci tirano giù no cioè io ho fatto una direttrice personale ho fatto una valutazione da chirurgo cioè economica imprenditoriale dura però ho detto chiariamoci inutile fare gli eroi e poi dopo hai metà della popolazione in quello stato perché io ho sempre usato l'ingaggio delle persone per portare investimenti in italia cioè se io sono in una multinazionale e siedo a parigi dove vado a investire vado a investire dove c'è una popolazione che ci crede che vuole fare gli obiettivi oppure in una popolazione che è lì che scalda la sedia quindi avevo in mente questo e lui mi ha risposto non mi ha mandato a casa ma mi ha detto va bene proponemi tu qualcosa e allora lì ho fatto la rivoluzione una rivoluzione facendo fare l'azienda una scelta imprenditoriale siamo nel 2011 e sono dieci regole basiche cioè banali però le abbiamo applicate in maniera rigorosa e direi anche feroce perché io lo so quanto è difficile sostituire una maternità in azienda ok però ho messo tutte le energie di tutti manager e del mio team risorse umane per arrivare a una neutralizzazione della maternità in azienda sono partita da lì perché ho detto il cuore di tutta la tematica è qua è nella maternità e quindi vedrete le regole sono semplici vicinanza psicoaffettiva dal 2011 tutte le mamme che rientrano in maternità si fanno un'ora di colloquio con me adesso con il mio team e c'è qua una delle nostre manager giovani e che cosa avviene in quel colloquio bravissima siamo contenti dell'esperienza che hai fatto è un'esperienza che ti ha valorizzato umanamente ma anche professionalmente perché poi vi racconto perché lo dico quindi voi non sapete questo vale costa zero fare questa operazione ma voi non sapete quanto è importante per una donna che rientra che si sente come me che rincorrevo il treno dell'azienda che andava e che va riportata assolutamente a bordo negli anni noi abbiamo rintegrato il 100% delle donne proprio per questa cura cioè comunque il fatto di accettare anche che c'è un rientro un po difficile no abbiamo visto anche il collega che si è assentato cioè la cura dei figli è fatta di imprevisti è fatta di di difficoltà però avere un'azienda dietro che lo capisce è importantissimo per le persone ha un valore che neanche vi immaginate queste regole adesso ci racconterai le hai pensate tu a priori le hai presentate la famosa riunione col board dove tutti i uomini e poi le hai messa solo io ho parlato con le persone dove avevamo e abbiamo una rappresentanza sindacale fortissima ho lavorato con le rappresentanti sindacali ho lavorato con cioè proprio intervistando e chiedendo di cosa hai bisogno hai la bacchetta magica dimmi di cosa hai bisogno il colloquio l'ho messo io perché io se non avesse avuto la mia famiglia avrei mollato perché quando l'organizzazione è ostile o indifferente come nel mio caso viene voglia di mollare e vediamo il tasso in italia dell'abbandono femminile siamo a cifre tra il 20 e il 30 per cento è di abbandono al primo figlio da parte delle donne quindi l'ho voluto io come momento per valorizzare la maternità perché sennò la maternità resta un fatto solo individuale solo personale ma non è così noi avevamo e abbiamo il business legato alle nascite se non nascono bambini azienda chiude io mi sono anche agganciata a questo alla forza della della mia attività dove abbiamo registrato la discesa da ormai dal 2000 2007 c'è la discesa quindi e oggi la vediamo ancora di più no parliamo continuamente di questo quindi voi mi direte supporto psicoaffettivo adesso vengo anche alla parte organizzativa supporto organizzativo già dai tempi io avevo messo questa regola ci sono dei momenti come questo del collega dove devi esserci non puoi non esserci le persone si devono sentire libere di dirlo in azienda senza paura di essere penalizzate senza paura di essere diciamo non comprese ci sono dei momenti per esempio l'inserimento al nido dove o la mamma o il papà è una decisione della coppia noi non c'entriamo ma devono essere presenti e devono esserlo in maniera serena perché se sono sereni rendono producono di più cioè è fatto sempre con quest'ottica e avevo messo la policy e poi è lo smart working di oggi no si lavora per obiettivi ho iniziato a dare i computer portatili già da quei tempi lì che è stato un investimento la cosa più difficile da far approvare perché quello era costavano di più i laptop no i portatili del dei famosi desktop che avevamo ai tempi no i fissi però quello vuol dire che la flessibilità oraria è anche un elemento importante e credetemi quando le persone possono accudire o essere presenti in momenti chiave della vita dei figli dopo ti restituiscono il 300 per cento se terza regola economica no voi mi direte va bene ma poi figlio vuol dire dei costi per una famiglia ci arriviamo io nel 2008 con una serie di direttori come me ci siamo dopo la crisi no che avevamo sperimentato abbiamo messo appunto quella che è poi diventato nel 2015 con la legge di stabilità la welfare cioè la possibilità di sostenere spese di cura accudimento salute educazione con un'agevolazione per le aziende basta un regolamento si deve dare a tutti e è dal mio punto di vista poi tanti mi dicono eh ma lo stato sonia dovrebbe fare qualcosa e non trasferire alle aziende ho capito però ora che aspettiamo lo stato dove vanno a finire le famiglie io ho fatto crescere quella cifra nel 2012 siamo partiti con 300 euro quindi 300 euro io do come datore 300 euro in tasca alla persona che mi giustifica rette scolastiche mense scolastiche baby sitter facciamo emergere il lavoro nero anche perché deve essere tutto certificato e documentato e a posto in regola e quindi oggi io quel valore lì l'ho fatto salire ogni anno non aumentando altri costi ho fatto salire il welfare ho detto bene vi piace il welfare sì perché è netto su netto ed è 2500 euro abbiamo un premio produzione di 2000 euro che stabiliamo col sindacato quello se io lo posso convertire in welfare cosa vuol dire che l'azienda risparmia i contributi e la persona ha minimo 4500 euro dove vanno sono andata a vedere come lo spendono lo spendono principalmente spese di educazione accudimento accudimento delle persone anziane sempre di più perché stiamo invecchiando i giovani la palestra va bene ok le spese mediche va benissimo però io ho il 70 per cento di caregiver cioè di gente che si preoccupa della cura di bambini o di anziani è lì che va la spesa e quindi questa è una misura economica è fallita la danone voi direte ma la danone guardate che io ho dovuto abbassare i costi dal 2011 le multinazionali purtroppo sono meno libere dell'imprenditore sono quotate in borsa mi chiedono il profitto ho tagliato altre spese e vi direte ma quali per esempio io non entro in una logica quando ho dei talenti non è che li metto fuori mercato così mi rimangono perché io sono circondata tra l'altro da tutte le grandi aziende la divisione che chiede di più è il digitale quindi le competenze digitali io sono circondata perché siamo zona stazione garibalti da amazon google linkedin qualsiasi digital company attorno a noi perché non vanno via le persone io le pago alla mediana il giusto salario non entro nella 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 competizione con queste qua per queste policy non li sto perdendo questo dice qualcosa c'è che soprattutto io direi tutte le età ma i ragazzi che entrano adesso dalle università i digitali tutto quello che vogliamo la prima domanda che fanno è qual è il bilanciamento vita lavorativa vita familiare qual è la smart working policy che applicate per loro non è una cosa carina da avere per loro è la base su cui decidono se rimanere in quell'azienda se raggiungere quell'azienda quindi questo è un fattore di competitività è un fattore economico perché io ho quella parte lì d'azienda che mi sta crescendo soprattutto dopo pandemia no dopo che gli acquisti si sono molto trasferiti sulla parte digitale quindi ho bisogno come il pane di questi skill e quindi vi fa capire come queste policy che sembrano perché siamo buoni no sì certo poi è una questione di giustizia sociale e di valori come noi li abbiamo no qui in questa sala però è anche una scelta di precisa imprenditoriale l'altra cosa ci lamentiamo molto del divario salariale tra uomo donna e allora noi cosa abbiamo fatto teniamo le donne nelle politiche retributive anche quando vanno in maternità se hanno bisogno di un aumento di merito perché l'hanno meritato noi glielo odiamo perché sennò ha voglia è ovvio che se una donna la tiri fuori dalle politiche dopo avrà il divario no altra cosa il bonus glielo diamo lo stesso al cento per cento anche se non c'è stata e questa è tutta un'iniezione che va anche ad aiutare economicamente le famiglie tutto questo cosa mi produce a livello sociale una metrica bellissima che presento a tutti i ministri degli ultimi nel 2017 8 per cento di natalità il tasso della mia azienda 500 persone e si sentono supportate quindi il desiderio delle persone lo so dalla statistica è di avere due figli in realtà siamo in azienda in in italia all'1.2 quindi vuol dire che se tu metti le condizioni la natalità si può il tasso si può migliorare non dico invertire tutti i numeri ma migliorare rispetto a questo tasso negativo che continua continuamente a essere una realtà parliamo dei papà allora nel 2011 ho messo dentro c'era un giorno la normativa italiana dava un giorno per i padri di retribuzione di permesso retribuito io ho mutuato la legislazione spagnola ho dato cinque giorni di permesso pagato e l'ho messo obbligatorio perché se no c'è sempre la scusa che in realtà c'è troppo da fare c'è da lavorare non è il momento qualsiasi scusa anche la pressione sociale no tra colleghi ama guarda quello lì che si assenta e che magari va tipo come se andasse in vacanza allora per togliere liberare gli uomini da questo stigma abbiamo messo l'obbligatorietà e funziona all'inizio sono un po disorientati vi dico la verità perché certamente sperimentano quello che sperimentano una donna che è il distacco nell'ambiente lavorativo perché tu hai la gioia perché comunque stai aspettando un bambino ma è doloroso staccarsi dal lavoro perché uno dice ok però poi quando torno poi mi prendono i progetti poi e lo sperimentano anche gli uomini cosa succede noi oggi siamo a 20 giorni di paternità retribuita niente perché ovviamente in 20 giorni non devi sostituire la persona la persona delega e distribuisce i compiti questo abbiamo fatto tutti i livelli è stato direttore generale anche il direttore generale si è preso i 20 giorni e tornano più contenti tornano che hanno sperimentato qualcosa di diverso che stare vicino alle moglie alle compagnie nel momento in cui c'è maggiore necessità perché lo prendono tutti immediatamente dopo la nascita abbiamo visto qui un papà che cosa significa e e vi voglio dire che da qualche anno intervisto anche i papà rientro di questi 20 giorni e soprattutto la nuova generazione è molto ingaggiata è molto contenta sta cambiando il paradigma ma perché perché nelle famiglie oramai con i costi della vita che sappiamo bisogna avere due stipendi non ce la facciamo più con un stipendio solo come nel passato dove la società la legislazione era fatta per la donna che sta a casa e l'uomo che lavora ma questi paradigmi sono paradigmi del passato non sono paradigmi attuali e quindi ve li ho raccontati tutti i pilastri no quindi il pilastro economico pilastro organizzativo il pilastro culturale che è la ripartizione della cura tra uomo donna e nel 2020 abbiamo introdotto una policy perché la mia popolazione sta invecchiando mediamente hanno abbiamo 41 anni e quindi ho voluto fare una policy per chi non doveva accudire gli o non solo i figli ma c'è anche la tematica dei genitori che non è espressa nessuno ne parla neanche la macchinetta del caffè ma che è presente è una realtà per le nostre persone che vivono in solitudine e in difficoltà quindi ho chiesto alle 500 persone ho detto chi è che mi aiuta a scrivere la policy ci sono candidati in 50 questo ti fa in tutta italia questo ti fa capire come la tematica è presente e creare lo spazio in azienda per parlarne senza paura è molto importante la mia voi mi direte ma Danone ha le possibilità io dico sempre libro l'ho scritto apposta è un incoraggiamento guardate che le persone lo sanno che se un'azienda è piccola e non ha tutti i mezzi io dico entrate nel percorso parlate nelle organizzazioni e non è per invadere la vita delle persone ma mettete una policy le policy sono sul nostro sito le vedete danone.it andate lì sono in word le potete adattare perché ogni azienda ha giustamente le sue possibilità non tutti hanno le dimensioni sono diverse il business è diverso eccetera però entrate il mio incoraggiamento è da imprenditore da imprenditrice entrate nel percorso io ho sempre dovuto decrementare i costi ce l'ho fatta non siamo falliti per queste policy ma ho dimostrato che i benefici sono superiori all'investimento perché io non ho il turnover non ho le grandi dimissioni non ho la corsa salariale sui salari per i top performer non ho l'ingaggio delle persone le persone che danno quel 300% e tutte uomini e donne cioè non ho zavorre poi voi mi direte eh sì Sonia però quello che se ne approfitta quello che se ne approfitta le regole sono chiare non è più in azienda cioè bisogna considerarle le persone che lavorano per noi con un rapporto io non uso più la parola la sala Francesca dipendenti l'abbiamo bandita dipendenti da chi ormai ognuno di noi è responsabile certo c'è l'imprenditore che è responsabile ma anche le persone che lavorano in quella realtà devono essere responsabili devono rispondere quindi io ti do fiducia e mi aspetto onestà no un rapporto onesto e schietto quindi io non considero i casi lasciatemi dire no chi mi vuole fregare quella è la patologia ma non dobbiamo perché c'è qualcuno che se ne approfitta da trattare tutti allo stesso modo e quindi è un discorso duro che faccio però secondo me questo è un discorso giusto all'interno dei contesti organizzativi vuoi farmi una domanda? poi magari c'è la possibilità che anche altri facciano domande volentieri però a me viene da dire questo che mi colpisce di quello che dicevi il contrario non Ema Danone è grande Ema con loro gli è stato possibile io un po' l'ambiente multinazionale l'ho conosciuto mi avrebbe da dire esattamente il contrario cioè come è stato possibile che in Danone in una multinazionale di un certo tipo molto rigida su certe cose sui costi costi per esempio sia potuto entrare un concetto così diverso cioè se fosse stata questa è la prima domanda questo mi ha colpito cioè come è stato spostato un concetto tipico da multinazionale no non si può no e invece è diventato possibile questa è la prima e ti faccio subito anche la seconda e quelli piccoli che invece dicono perché mi sembra che qualcosa sulle piccole e medie aziende stai facendo sì allora due bellissime domande allora sicuramente quando ho introdotto la policy lo racconto sempre quanti bambini nascono nelle nostre organizzazioni un collega che gestisce 5.000 persone mi ha detto Sonia ho contato sono nati 60 bambini quindi non nascono centinaia di bambini magari quindi la policy è entrata piano piano no sia stata applicata a genitore per genitore e io poi quando ho iniziato a vedere vi voglio dire anche questa cosa qua delle competenze cioè io ho fatto questa osservazione qui c'è qualcuno che lavora che lavora con una general manager donna su cui ho visto allora credetemi poi ho chiamato dei ricercatori a studiare perché è il fenomeno le donne se aiutate a superare il primo momento di rientro che è veramente insomma un trambusto rilasciano delle grandissime competenze che sviluppano con la cura in un'economia digitale come la nostra dove la capacità organizzativa il fare squadra l'empatia la capacità di ascolto cioè sono importantissime quindi se tu hai una visione di breve termine sulle persone ovvio allora non assumere donne fine delle trasmissioni non hai la maternità ma se investi e credi nel valore femminile delle donne dopo la maternità succede questo noi l'anno scorso abbiamo promosso sono andata a vedere quante mamme dopo il congedo non immediatamente ma negli anni successori il 14% delle nostre promozioni è andato a donne sono mamme ovviamente ci vuole l'impegno e la volontà della donna di mettersi in discussione nell'avanzare però il mio messaggio a voi è se ho una visione non di breve sulla persona ma di medio lungo credetemi la maternità e poi l'ho fatto l'ho fatto misurare a dei ricercatori dell'università di Milano effettivamente è così si sprigio si uomini e donne maturano con la cura delle competenze professionali in un'economia digitale come la nostra fondamentali gestione della crisi gestione dell'emergenza flessibilità velocità sono tutte per noi competenze cruciali che pagherei io per per aumentare e noi abbiamo una palestra naturale che è la genitorialità quindi quella è un'ulteriore valorizzazione quindi io quando ho visto questi fenomeni ho iniziato a misurarli misurare il tasso di natalità misurare il tasso di promozioni misurare l'ingaggio delle persone che naturalmente l'ingaggio delle donne è risalito con queste pratiche perché sia chi deve ancora diventare mamma sia chi è già stata mamma dice ok ma questa azienda comunque fa quello che dice perché le persone in questo momento ricercano ma forse sempre ma in questo momento ancora di più organizzazioni di senso cioè di adesione ai valori molto importante quello che state facendo con questi incontri perché è cambiato il paradigma non è più solo monetario dalla mia esperienza di questi anni io vengo dagli anni 90 dove bisognava essere perfetti in azienda sempre disponibili si lavorava tantissimo senza senza intrusioni lasciatemi dire della vita privata nel lavoro si metteva una maschera addirittura il codice di vestito non c'è più tutto questo è il digitale il digitale ci ha proiettato in un continuo in una continua sollecitazione e quindi non abbiamo più neanche gli spazi tra un po' però perché io sto in quell'azienda per il senso di appartenenza di questa azienda per i valori che questa azienda rappresenta per me e questo è questo cioè alla fine le persone cercano l'autenticità di quello che dice l'azienda è la coerenza ma anche l'autenticità di portare se stessi in azienda di non mettersi la maschera e questo è potente e sulle piccole è qualcosa che non mi fa dormire perché comunque mi rendo conto che 5.000 persone è una cosa 500 un'altra 50 o 5 è un'altra cosa ancora altre due cose ancora c'è la micro 0.10 c'è la piccola fino a 50 insomma io aumenta queste categorie scusatemi e questo io ci sto pensando ci deve essere un modo le istituzioni devono fare la loro parte non possono perché il tessuto italiano è fatto di questo sto facendo da anni questa spinta incoraggiamento sulle grandi che si devono muovere però ci vuole anche un altro meccanismo secondo me ci vuole qualcosa e quindi qui magari la prossima volta so che uno dei problemi organizzativi legati alla maternità è il tempo di reinserimento cioè torno puntuale dopo tre mesi torno puntuale dopo sei mesi come facciamo a mantenere questa puntualità allora io ci ho lavorato ho trovato una modalità voi come vi comportate cioè le persone effettivamente sono puntuali rispetto agli accordi di uscita che tipo di adesione avete tu dici accordi cioè quando io rientro di solito uno va in maternità non sempre si stabilisce quando rientrerai noi abbiamo messo a punto un protocollo tale per cui si negozia e tendenzialmente questa cosa poi ne parliamo però ecco il punto che noi abbiamo visto è che dopo aver applicato questa cosa le persone rientravano puntuali sì anche noi cioè io non vedo nessuno ragazzi io sono cresciuta negli anni 90 si diceva quando una persona andava in maternità va in vacanza o comunque se ne sta approfittando dell'azienda no ecco se pensiamo questo della maternità non ci siamo perché non avremo più consumatori non avremo più chi ci paga le pensioni il sistema implode cioè è chiaro che partiamo dalla valorizzazione del momento poi sono d'accordo con te cioè secondo me deve essere noi lasciamo che sia la persona che ci dice quando tornare però io non ho visto mediamente le nostre maternità sono sul rientrano al settimo ottavo mese attaccano le ferie ok non ho visto nessuno che da noi se ne ha approfittato e sto a casa tre anni anche perché la mia sensazione è che le famiglie non si possono permettere cioè un solo stipendio anzi alla nascita del figlio se crei le condizioni per il rientro io non ho visto ho visto come vedi tu un rientro nei tempi giusti no cioè di svezzamento del figlio cioè dobbiamo mettere in conto anche quello che avviene no in questi mesi di tranquillità organizzativa nel lasciarlo nell'inserirlo ai nidi eccetera cioè però il primo passo lo deve fare l'azienda io penso che le persone reagiscono al trattamento dell'azienda se le fai sentire delle ladre ti stanno via tre anni se invece le consideri persone adulte quindi io sono un imprenditore ce la metto tutta ti do così perché oggi posso darti così domani cioè le persone lo capiscono non sono capisci no che voglio adesso Barilla ha dato dodici vedate cosa che ha dato dodici settimane di paternità chiaro settemila persone in Italia io non lo vedo non lo devo sostituire riorganizzo la sua attività internamente ma io non potrei farlo con cinquecento e non potrebbero farlo no le piccole quindi io penso che le persone si rendono conto non fanno un discorso irrealistico però se vedono che l'imprenditore l'azienda fa quello che può che riesce però è convinta di quello che fa cioè per quello che vi dico partite dal colloquio il colloquio vale zero non bisogna spendere niente ma ha un valore altissimo per la donna che rientra o per il papà se fa i suoi dieci giorni di legge altissimo perché dice caspita il mio datore mi ha chiesto come mi sento non sottovalutate questi aspetti perché sono diventati sulle nuove generazioni perché adesso stiamo parlando dei papà giovani scusate però la finestra temporale per le donne no entro i 40 45 è una popolazione dove anche questa attenzione conta quindi non puoi dare il welfare a 2500 ho capito però l'attenzione almeno porsi il tema e questo ha un effetto fortissimo dalla mia esperienza grazie ma volevo chiederti se tu vedi e come vedi la nuova generazione HR perché io lavoro in una società che fa servizi di welfare alle aziende io sono responsabile dei servizi per i genitori e caregiver quindi mi relaziono spesso con la popolazione HR e con le medio grandi ovviamente ci sono i pochi ingaggiati come racconti tu grazie della sottolineatura perché è quello il punto vero cioè di entrare in percorso e di iniziare a coinvolgersi con la vita delle persone ogni tanto ci chiediamo se loro ce l'hanno questa vita perché o meglio i miei colleghi se lo chiedono io dico sempre ma loro saranno pure caregiver genitori amici anche dei HR a volte però sembra che abbiano come un schermo per cui banalmente gli chiedi perché vuoi dei servizi per i genitori per i caregiver chi sono i tuoi genitori i caregiver cosa ti hanno detto nulla cioè il nulla totale dai numeri ai bisogni non sanno nulla e hanno più il bisogno di piazzare lì il servizio welfare da mettere nel bilancio sociale eccetera quindi mi chiedevo cioè cosa si sta facendo anche a livello di formazione di accompagnamento per le nuove generazioni di HR questo delle risorse umane è un punto fortissimo perché chiaramente se non c'è la convinzione di chi gestisce le persone non vai neanche dall'amministratore delegato a propugnare quindi è un tema chiave e secondo me tutto quello che sta succedendo le risorse umane non sono una funzione che fa innovazione quindi è un po' statica è un po' conservativa quindi bisogna fare in modo e secondo me trasformazione digitale il fatto che le persone richiedono io adesso ho una figlia di 15 anni quando entrerà in un'azienda cioè ha le idee molto chiare e io vedo quelli ragazzi che stanno entrando in questo momento quindi questo porterà per forza i HR perché puoi cioè se ti vanno via le persone per forza devi fare qualcosa quindi io guardo non penso cioè sto facendo tantissimi incontri dove spiego eccetera però penso anche che ad un certo punto saranno messi con le spalle al muro anche quelli che si comportano così e dovranno assolutamente fare qualcosa cioè lo sento proprio arrivare ma è la trasformazione del mondo lavorativo i contesti digitali che ormai il digitale sta entrando dappertutto anche nelle fabbriche questo è una è una rivoluzione nel modo in cui gestisci le persone non conta più la forza o la presenza contano quei valori che ho raccontato no cioè quindi ti direi secondo me verranno pazzati via per forza c'è un'altra categoria a cui ho fatto formazione recentemente che è il sindacato il sindacato si deve un attimo svegliare nel senso che deve aiutare no gli HR a chiedere una maggiore equità una maggiore parità e prendevano nota anche lì siamo fermi cioè non la vedono cioè non non se lo sono posto il tema però è un tema super attuale non solo per le donne anche per gli uomini quindi questa è la mia visione ecco che più che un loro dinamismo mi aspetto che tutto attorno a loro ti porti poi ad agire di spiegarci meglio quando parli di digitalizzazione dove leghi questo cambiamento che stai raccontando con il fatto della digitalizzazione di spiegarla meglio di provare a fare un esempio sì sì noi abbiamo dei mestieri che sono investiti dalla digitalizzazione pensate all'esperienza dell'acquisto noi presidiamo tutti diciamo le catene della grande distribuzione quello è no sicuramente il lavoro che fa un commerciale che va negozia con le centrali di acquisto c'è tutta questa diciamo parte tradizionale del mestiere però da noi sta crescendo tantissimo l'e-commerce cioè cambia tutta la logica no perché tu non hai il consumatore che va nel supermercato e tira giù i prodotti tu devi raggiungere il consumatore sul telefonino quindi devi piazzare lì devi fare gli accordi con quel mondo lì devi fare il negozio virtuale lì quindi questi sono tutti nuovi lavori che stiamo sperimentando e quella è l'area che cresce di più quindi tu devi portarti in azienda delle competenze nuove e diverse e te le devi tenere strette perché è lì che c'è anche maggiore competizione di quelli anche bravi eccetera devi fare la pubblicità lì devi misurare lì quindi ma anche noi abbiamo sulla parte pediatrica pensate che noi presidiamo con l'informazione scientifica il 98% dei pediatri in Italia ma è cambiata completamente dopo il covid il mestiere cioè prima era visito in persona in presenza il pediatra tu lo sai bene e espongo perché il prodotto Mellin o Aptalin è migliore rispetto e quindi ho un'interazione in presenza parte di quel mestiere lì è andato online è andato tramite comunicazioni che avvengono sempre con lo smartphone con le mail con le visio cioè quindi sono tutti i mestieri che stanno subendo la trasformazione adesso c'è chat GPT che ancora non sappiamo io l'altro giorno ho visto come ragionano i creativi con chat GPT con gli immagini e allora tu dai il brief come dicono i pubblicitari tu dici devo avere questa immagine per questa pubblicità e chat ti produce selezionando centomila immagini un'immagine pazzesca allora mi dico dove finiranno i pubblicitari i grafici quindi c'è una rivoluzione fuori cioè fuori nel senso attorno a noi i mestieri stanno cambiando ma velocissimamente per cui bisogna seguire questa evoluzione e capire quali sono i mestieri che verranno automatizzati e lo vediamo già no alcune cose da una app e quindi scompare quella professionalità io scusate avevo chi mi registrava 500 non 500 diciamo 300 note spese quando il commerciale va poi espone le spese di rappresentanza e viene rimborsato non c'è più quel lavoro lì noi adesso abbiamo una app ognuno butta dentro le sue spese e poi vengono tutte pagate in maniera digitale cioè sono scomparsi due mestieri di due contabili quindi sta avvenendo pezzo per pezzo non in maniera velocissima ma abbastanza sostenuto il ritmo quindi sto parlando di questo sto parlando di questa trasformazione quello che mi sembrava di capire che tu legassi questo che si si vede con il desiderio del dipendente di vivere la sua vita con più con più chiarezza rispetto al lavoro perché mi sembrava che tu le mettesse assieme era lì che mi sfuggiva il sì perché in realtà noi ci siamo dati delle regole anche no perché l'invasione dello smartphone è continua quindi ci siamo anche dati delle regole perché ecco la cosa su cui io rifletto sempre se tu vuoi flessibilità dalle tue persone devi dare flessibilità cioè tu non puoi arrivare gerarchico tutti qui dal lunedì al venerdì e pensare che fanno poi creativi o che ti danno flessibilità quindi sicuramente io agevolo diciamo vado a creare un ambiente lavorativo dove le persone si possono esprimere possono esprimere la loro unicità questo per me è importantissimo è importantissimo per le persone e mi dà la massima produttività metto delle barriere delle regole chiare solo per evitare l'invasione del digitale che altrimenti ci cioè da noi dopo una certa ora non si scrive più la mail perché se no addio al weekend cerchiamo di non scriverle almeno che non ci sia un'emergenza cioè abbiamo dato delle regole perché io sulla crisi pretendo capito sull'emergenza pretendo la massima reazione però se non metto le regole le persone alla fine vanno in burnout quindi è proprio un gioco di mixare bene la flessibilità e le regole non è che c'è la flessibilità allora non ci sono più regole no devi mixare bene le due cose per avere il massimo perché poi alla fine non è che le persone devono fare i 100 metri devono fare la maratona grazie mille io ho già preso il libro perché avendo lavorando dentro un contesto con 80% donne mi metto a studiare stasera stessa due domande su vertical danone lo accennava prima Giovanni che nel frattempo ha cambiato funzioni in danone e poi su danone visto questa esperienza di italia così bella così di successo volevo capire se come quando viene messa matrice perché in italia siete 500 nel mondo vuoto per pieno 100 mila come questa case history può diventare pratica per tutti allora ti rispondo alla seconda domanda sono molto orgogliosa perché la policy italiana è diventata mondiale e nel 2017 ci hanno messo tre anni giustamente per farla si dice sviluppare in tutti i paesi che vuol dire metterci soldi cos'è diventata nel mondo 16 settimane pagate tu pensa e 10 giorni per i papà pagati tu pensa in america negli stati uniti non c'è la maternità zero e quindi hanno fatto 16 cioè la policy ha avuto una potenza pensa soprattutto nelle situazioni dove siamo presenti in paesi emergenti dove non c'è una legislazione come la nostra italiana che tutela ma non c'è niente e noi l'abbiamo messa cioè ha preso la policy e l'hanno portata e sono felicissima naturalmente adesso la caregiver policy quella sui genitori anziani che ho lanciato nel 2020 la stanno implementando in tutto il mondo perché la popolazione sta invecchiando in tutto il mondo e quindi il tema dei genitori anziani e dell'accudimento è un tema reale non è un tema solo in Italia e quindi questa è la prima domanda la seconda domanda scusami la prima il mio cambio del ruolo allora alla fine dopo 25 anni nelle risorse umane ho lasciato spazio alla generazione le persone direttore personale un uomo che mi sono cresciuta dal 2014 quindi avvicendamento e poi sono cresciute tutte le manager donne quindi io non sono stata sostituita sono cresciuti tutti loro e mi occupo invece di relazioni istituzionali di comunicazione e sostenibilità quindi è un ruolo più esterno più di impatto più quello che sto facendo per esempio oggi più il rapporto con le istituzioni a cui sto raccontando e mi sto spendendo proprio perché facciano qualcosa perché il tessuto italiano non è fatto solo di grandi aziende è fatto di una miriade di aziende quelle per me è un fattore di competitività del paese non è una questione facciamo le politiche familiari perché siamo bravi cioè proprio e pensate mi chiedono adesso sto facendo da aiuto in Arabia Saudita per raccontarvi veramente in Arabia Saudita hanno dato la patente alle donne nel 2017 ieri però hanno un piano nazionale di portare le donne al 30% della forza lavoro entro il 20 e 30 sto facendo da babysitter a una joint venture che abbiamo che ha il 3% di donne e stanno applicando queste pratiche qua perché se tu vuoi tenere dentro le donne nel mercato del lavoro devi applicare le regole però per dirvi si sono svegliati in Arabia Saudita dobbiamo svegliarci anche noi cioè non è una questione la natalità è importante se no non avremo più banalmente i consumatori per esempio noi ma non ci saranno più bambini che vanno a scuola eccetera cioè crolla tutto il sistema e e poi per quel discorso che vi dicevo io sul digitale cioè secondo me noi abbiamo bisogno di competenze come dice Silvia Zanella nel suo libro il futuro del lavoro è femmina che non vuol dire donna vuol dire che femminili sono le competenze del mondo digitale che sono quelle che ti dicevo cioè non l'aggressività ma la cooperazione l'empatia il lavorare in squadra i team digitali fanno questo lavorano tra di loro non c'è la competizione degli anni 90 lasciatemi dire no? quindi faccio il fatturato faccio l'obiettivo io e il collega se muore chi se ne frega no non si ragiona più così nell'economia digitale è tutto molto interconnesso quindi si lavora in team intanto grazie io il libro l'ho comprato addirittura al meeting per cui di nuovo complimenti io tra parentesi faccio il consulente al lavoro ho iniziato a lavorare addirittura negli anni 80 e ho vissuto anche perché prima lavoravo in azienda tutto quello che stai dicendo e condivido tutto condivido soprattutto l'attenzione ai figli eccetera nel mio piccolo io ne ho 7 e quindi ho cercato di dare una mano alle statistiche i meriti vanno alla moglie per l'appunto che fa la ginecologa tra parentesi quindi restiamo sempre nel campo però appunto la domanda è questa condivido al mille per mille quello che stai dicendo anzi al 110% come si usa dire tutto quello che stai dicendo e tutte le policy che hai realizzato però io osservo anche da consulente al lavoro quindi girando per le aziende eccetera e in generale tra la popolazione anche tra i miei figli che nel frattempo sono cresciuti i loro amici eccetera una minor propensione un minor desiderio di fare famiglia e di avere figli cioè allora voglio capire con questo tu sei riuscita a far riemergere qualcosa cioè la sensazione è che tu sei riuscita a far riemergere qualcosa che era sopito per via di tutte le difficoltà che è perfettamente raccontato che viviamo tutti i giorni e quindi quel desiderio c'è ancora ma è sotto la braccia bisogna farlo venire fuori o vabbè sei riuscita sicuramente laddove c'era già il desiderio ma senza reattivarne dell'altro ecco è una domanda un po' così seconda domanda banalissima è siccome aziende globali multinazionali e così via misurano anche molto gli effetti in termini economici ecco mi chiedevo l'azienda a parte diffonderlo l'ha diffuso perché ne ha capito il valore così o ne ha fatto una valorizzazione e quindi è riuscita a dire a convincere i vari CEO che quella era una policy da seguire al di là dell'ISG e di altre questioni di buone prassi di immagine eccetera due domani molto diverse ma ti ringrazio e comunque complimenti davvero grazie allora vi farei vedere nelle indagini di clima noi abbiamo una parte esprimi cosa ti piace di questa azienda cosa dobbiamo migliorare e lì è anonimo quindi non lo fanno per piageria per fare i lecchini con le risorse umane vi farei vedere quello che scrivono ben due mi hanno scritto ho avuto il coraggio di avere il terzo figlio ok perché sapevo che dietro avevo un'azienda cioè secondo me sono d'accordo con te è una questione di desiderio però è anche una questione di mezzi cioè le persone fanno i conti genitori o futuri genitori con la possibilità cioè ce la faccio io a sostenere economicamente tre bocche quattro bocche eccetera eccetera quindi significa creare queste condizioni normalizzare e io lo leggo molto al fatto che non abbiamo burnout non ho percentuali il livello di stress si abbassa nell'organizzazione cioè oltre ad essere un'organizzazione più solidale tra le persone tra di loro perché si parla anche di fragilità di cura e non si fa la gara a chi è più bello ma è fondamentale secondo me creare le condizioni quindi sono d'accordo è il desiderio ma è anche perché poi nei desiderata che fa l'ISTAT il desiderio è due figli quindi lì all'ISTAT lo dicono no? poi però anch'io riscontro questo però secondo me c'è una questione anche almeno nella mia realtà di mezzi ce la faccio io a sfamare tot bocche sì no due mi hanno scritto in tempi diversi ho avuto il coraggio di fare il terzo figlio oppure di fare il secondo perché sennò ci si ferma eventualmente a uno ok? io lavoro con i più grandi pediatri l'età femminile l'età di nascita del primo figlio delle donne si sta alzando questo alza i costi sanitari alza i rischi a cui va incontro una donna e poi c'è tutto il tema della fertilità che è un grandissimo tema cioè del fatto che man mano che vai avanti eventualmente crolla per tantissimi motivi quindi secondo me è proprio ridare un po' speranza anche al paese ai giovani anche in questa prospettiva la seconda domanda sì sì noi è stato proprio quello di dimostrare i costi che sosteniamo con queste politiche e i benefici e da quei dati lì perché se no i manager non prendono decisioni se tu non gli propini il dato hanno deciso di implementarlo in tutti i paesi e lo hanno fatto proprio per quello che dico io l'ingaggio delle persone perché in un'economia digitale ripeto non è la catena di montaggio non è la forza non è la presenza è l'adesione all'azienda cioè ci sto mettendo la testa su quello che sto facendo raggiungo gli obiettivi perché questi obiettivi ogni anno sono sempre più difficili e quindi devi avere le persone super motivate se no buona no cioè se non altro nelle multinazionali per esempio noi competiamo molto sugli investimenti cioè c'è stato un momento che l'Italia proprio la l'abbandonavano quasi no invece noi con questa narrativa abbiamo riportato investimenti in Italia cioè questo è importantissimo vista l'ora e vista che visto che Sonia è stata capacissima e bravissima a riempire l'assenza di Christian io mi fermerei qua concludo con il sottotitolo di introduzione perché secondo me è alle mie spalle perché secondo me lei ci ha fatto capire che questa non è una frase buttata lì l'uomo non desidera il profitto a breve termine o successo a scapito degli altri ma costruire qualcosa di utile di duraturo per sé per le persone a lui vicine e in prospettiva per il mondo grazie Sonia